E' la storia d'amore per eccellenza, l'opera più romantica del repertorio teatrale di tutti i tempi, ma quella firmata da David Zard è anche una favola moderna, universale e attualissima ed è soprattutto un musical dai grandi numeri. Romeo e Giulietta ama e cambia il mondo, arriva a Palermo dopo 160 repliche e 300.000 spettatori in meno di un anno. Da record anche i numeri del backstage, 45 gli artisti in scena, 270 costumi, 23 cambi, coreografie e scenografie mozzafiato. Non poteva che essere così per un regista che ci ha abituato alle grandi produzioni e ora porta al Teatro di Verdura dal 16 al 21 settembre un grande evento musicale giunto in Sicilia senza alcun contributo pubblico. Le potenzialità oggi sono un po' rivoluzionate dal fatto che c'è una crisi dove gente non ha molto denaro. La sua bellezza è definibile solamente con una parola, è il più grande spettacolo musicale mai visto in Europa. Grandi nomi per il cast, Romeo sarà Davide Merlini, talento di X Factor 2011. Giulietta sarà invece interpretata da Giulia Luzia, un fan prodige del canto, doppiatrice per la Disney, poi vista anche in tv nelle serie Un Medico in Famiglia e Cesaroni. E poi ancora Barbara Cole e Vittorio Matteucci. A tradurre Shakespeare in musical ci pensano poi i testi italiani di Vincenzo Incensi, la regia di Peparini e le musiche di Presgurvic. Una grande produzione che ricalca quella di Notre Dame de Paris, anche quella firmata a Zard, e promette di avere lo stesso successo. E poi un debutto molto atteso, quello palermitano. In città i grandi eventi come questo sono diventati rari, complici la crisi, ma anche la carenza di strutture adeguate. Una grande opera di Shakespeare in versione mediterranea, grazie al straordinario impegno di Davide Zard. Io credo che sia un altro elemento di straordinaria attrazione della nostra città, ma che dico, della Sicilia. Grazie a tutti.